molto bene nella testa della giga allora, per ognuno di loro c'è un pezzo quindi il museo di Serena è un musicalizzatore Alfredo, adesso è difficile allora, attenzione, prima coppia facciamo un grande applauso benvenuti alla Russia sono Alexander Desiatoffi e Maria Macarenko allora, parlano su camandulaje di Osvaldo Buñese dai grazie a tutti 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 grazie a tutti